Sono alinate ad attendere l'arrivo dei medici che verranno destinati agli ospedali di Brescia. Giornata bellissima, bellissima meteorologicamente, bellissima perché i numeri anche oggi stanno migliorando e perché abbiamo iniziato oggi la distribuzione di colombe di uova di Pasqua che destineremo alle nostre sanità, agli ospedali, alle ATS, a tutti coloro che hanno collaborato in questo mese di grande lavoro. Si è conclusa oggi la distribuzione di 3 milioni e mezzo di mascherine grazie ai nostri volontari della protezione civile che abbraccio con grande affetto, grazie agli edicolanti, grazie ai farmacisti che ci sono messi a disposizione per collaborare grazie a tutti quelli che hanno consentito di completare questa opera.